Per quale motivo oggi le aziende ricercano talenti? Le clausie principali di questa rincorsa, affannosa, sono da individuarsi nella globalizzazione, con l'accentrazione dei processi e della comunicazione, nella pressione competitiva più agguerrita, nel cambiamento continuo dei modelli di business, sempre più orientati a team agili per rispondere repentinamente al cambiamento di mercato, nell'innovazione tecnologica, con la necessità di profili verticali e multidisciplinari e nella maggiore complessità dei mercati. Per risorse di talento si intendono quelle persone che in prospettiva possono ricoprire posizioni strategiche per l'azienda e che presentano alcune caratteristiche ben specifiche. In primis, curiosità e propensione al rischio. Capacità di apprendimento, agile, veloce e adattabile. Con propensione al team working, quindi a partecipazione di gruppo. Ambisce a traguardi sempre più ambiziosi. Sa gestire lo stress e presenta intelligenza emotiva. E sa vedere il mondo con occhi diversi. Nelle aziende contemporanee il ruolo dell'NCR è sempre più rilevante in quanto preposto ad attrarre e gestire talenti, a contribuire nel guidare nuovi valori aziendali e la loro diffusione, nel redigere i piani formativi, che devono essere continui, costanti, personalizzati e di gruppo, nel creare processi di mentoring, nel coordinare la comunicazione interna ed esterna, nel determinare anche le policy, anche social, e nel supportare la governance nelle politiche di assessment. Si parla di talent management, quel framework che stabilisce le strategie di gestione dei talenti, che identifica i bacini di talenti su cui operare, monitora e gestisce il bacino dei talenti nel tempo, e studia e sviluppa processi di retention per circoscrivere gli abbandoni. La strategia di talent management deve prevedere l'integrazione di politiche di acquisizione dei talenti, di sviluppo della crescita professionale e di carriera, di sviluppo della leadership, di gestione delle performance, e la loro premialità, quindi, e di gestione degli abbandoni. Alcuni studi dimostrano, soprattutto per la generazione Z, che i talenti sono sempre più attratti da benefici intangibili, come i valori e la cultura aziendale, sono attratti da una leadership convocativa, da un buon equilibrio vita-lavoro e possibilità di carriera e crescita professionale, anche grazie ad un piano formativo, interno ed esterno, e anche grazie ad esperienze all'estera. Anche quando scendiamo nei benefici tangibili, e quindi quantificabili, si scopre che attraggono molto più benefits come assicurazione medica, l'accesso a strumenti di condivisione e di collaborazione, lo smart working, e solo nelle ultime posizioni il denaro come premialità o aumento di remunerazione. Per poter attrarre talenti, dando per implisto i valori condivisi all'interno dell'azienda, bisogna investire nelle qualità del proprio sito, internet, quindi che risulta essere il primo accesso del talento al brand, che deve chiaramente rappresentare i valori aziendali, con i messaggi che devono suscitare emozioni e desideri, mostrare possibilmente una pagina dedicata alle prospettive di crescita all'interno dell'azienda. E' importante presidiare all'interno del career book o partecipazioni e organizzare giornate d'incontro con giovani laureati, creando magari, anche in collaborazione con università e master, workshop o boat camp, quindi campi di addestramento, per testare e reclutare giovani talenti. Ed infine, attivare una comunicazione costante con le diverse community, attraverso presentazioni di articoli, video, blog, libri, presentazioni, webinar e tanto altro.